Leonardo Loria, primo calcio d'angolo della sfida e subito show Nicolussi, la conclusione in porta, traversa piena La Juventus ha in qualche modo montiere il passesso con Bernardeschi Apertura, attenzione, per Cristiano Ronaldo, punta la porta, va Cristiano, attenzione Ronaldo! Il primo gol con la maglia della Juventus di Cristian Vuole divertire il pubblico, si ride, CR7 Sono 17 minuti sull'acronometro qui a Villar Perosa 1-0, attenzione, per il bis, Cristiano Ronaldo, anticipato E la rete, l'autogol della Juventus